Di una sfida che chiaramente poteva addirittura essere compromessa, no? Quindi diciamo che sicuramente sulla gestione, ecco parliamo degli aspetti negativi per poi andare a quelli positivi. Sicuramente insomma sul piano della gestione il Benevento qualcosina l'ha sbagliata perché poteva compromettere comunque il risultato. Buonasera a tutti, sì, qualcosina abbiamo sbagliato. Al primo errore abbiamo preso gol, poi abbiamo avuto secondo me dieci minuti di sofferenza. Abbiamo subito il secondo gol, però guarda anche, non solo gli aspetti negativi, ma anche gli aspetti molto positivi. La squadra che non ha mollato fino alla fine, ci ha creduto fino alla fine per portare a casa questa vittoria, i tre punti. Quindi questo è un fattore molto importante. Se devo andare a analizzare la gara, credo la squadra oggi abbia fatto una grande gara, tolti quei dieci, quindici minuti che ho detto prima. Però la squadra è stata sempre padrona del campo, ha sempre costruito, non ha mai lanciato la palla in avanti, non ha mai dato nessun segnale di timore, di paura. Quindi sono molto contento perché continuo a vedere quello che voglio dalla mia squadra, questo sono molto contento. Eppure è sembrato un passo indietro rispetto alla sfida con la regina, manovra un po' più lenta. L'hai vista anche tu così e può essere anche dipeso comunque da una sfida ravvicinata a distanza di pochi giorni? Ma dipende da tante cose, dipende da una sfida ravvicinata, dipende dagli avversari, dipende da come si mettono in campo gli avversari. Perché tante cose chiudevano bene in mezzo per mandarci sugli esterni, non ci concedevano delle situazioni che abbiamo provato e ricercato continuamente contro la regina. Quindi non può fare tutte le partite tutto allo stesso modo, ci sono gli avversari diversi, caratteristiche diverse. Però la squadra, ripeto, ha cercato sempre di imporre il proprio gioco, non ci è riuscita per parecchio tempo durante la gara. Bisogna migliorare sulla gestione, sul 2-0. Ci siamo un po' complicati la vita da soli, però questo è anche sempre quel discorso del percorso di crescita che ha una squadra. E quindi bisogna lavorare tanto sotto questo aspetto. Studio. Mister, è stato un po' come il riassunto delle puntate precedenti in 90 minuti, ma l'epilogo è stra-positivo. Quindi quanto vale per la squadra uscire così nell'economia del campionato? Ma tantissimo, l'economia di questa partita, del campionato. Noi pensiamo partita dopo partita, oggi era importante fare una grande gara dopo una bellissima prestazione contro la Regina. Era difficile ripetersi, la squadra, ripeto, ha fatto per 70 minuti, 75 minuti un grande calcio. Quello che voglio vedere, sempre concentrati sia su palla nostra, sia su pallagli avversari, le coperture preventive. Quindi da questo punto di vista sono molto contento perché vedo una crescita continua, dove bisogna migliorare sul saper chiudere le partite e stare sempre in partita fino alla fine. Perché poi abbiamo visto anche oggi, basta un episodio per riaprirla. E noi dobbiamo quantomeno cercare di non concedere questi episodi agli avversari. Non è facile, però dobbiamo lavorare su questo. E quindi, ripeto, la strada secondo me è quella giusta. Non possiamo pensare di vedere sempre una squadra come quella vista contro la Regina, ma a me piace anche questa squadra vista oggi. Billy Nuzzorillo. Mister, buonasera. Innanzitutto una domanda sulle condizioni di Letizia, sul motivo della sostituzione, se sei infortunato, qual è il problema. E poi volevo chiederle, adesso con le prestazioni che stanno facendo Vogliacco e Barba, diventerà un problema quando tornerà Camil Glick? Nel riguardo a Letizia ha avuto un problema, ha già sofferto di un problema al polpaccio, ha preso un'altra botta oggi e quindi gli dava fastidio anche a camminare, ho preferito tenerlo fuori a fine primo tempo. No, non ha nessun tipo di problema. Rientra un giocatore importante e Vogliacco insieme a Barba stanno facendo, hanno fatto bene in queste partite. quindi avrò una scelta e un'arma in più da poter utilizzare durante le partite e durante la prossima partita. Per me non è assolutamente un problema, quindi valuterò durante la settimana e poi farò la scelta come ho sempre fatto il giorno della gara. Peppe Iannicelli. Buonasera Mister, che piacere di trovarla. Io sono d'accordo con lei, si valuta partita per partita, si ragiona partita per partita, ma lei sa bene che l'orizzonte del Benevento è diverso. Lei è stato chiamato per condurre questo gruppo in Serie A. È inutile, voglio dire, far finta di non conoscere quale sia l'obiettivo. Dicevo, sì posso, dicevo, è stato chiamato per portare questo gruppo in Serie A perché l'obiettivo del club è quello di essere i protagonisti ai massimi livelli, eccetera. Mister, le chiederei perché non siete riusciti a dilagare stasera come avete fatto contro la Reggina che è molto più forte del Vicenza e secondo però poi guardando la partita cosa le è piaciuto di più e cosa invece l'ha fatta arrabbiare della sua squadra. Allora, sottolineava che questa squadra, diciamo, è stata costruita per vincere quindi fondamentalmente è inutile girarci intorno. Il club ha ambizioni importanti per cui l'obiettivo non è la programmazione ma la vittoria immediata. Detto questo, insomma, cosa è piaciuto e cosa ti ha fatto arrabbiare di più di questa sfida? Dopo la bella prestazione della Reggina. Innanzitutto questa è una considerazione vostra perché io, per la società, con me è stata chiarissima. Le ambizioni, ognuno di noi, sono sempre importanti, sempre di fare il massimo e quindi ottenere il massimo. La società e il Presidente insieme al Direttore abbiamo iniziato una programmazione quindi queste sono considerazioni vostre che bisogna assolutamente vincere. Noi tutti vogliamo vincere e arrivare, ripeto, più in alto possibile. Quindi questa è la prima considerazione. La seconda, per quanto riguarda il fatto che possiamo fare sicuramente meglio ogni partita. Però ripetere le prestazioni che abbiamo fatto contro la Reggina non è, a mio avviso, non è possibile fare sempre queste, quelle prestazioni. Io valido sempre partita dopo partita, poi gli altri guardano il risultato finale ma io proprio guardo il presente. Il presente è che ogni partita sarà difficile, sarà una battaglia e mi limito a ragionare partita dopo partita. Sonia. All'insegna della continuità. In questa sfida non è cambiato nulla perché la strada tracciata contro la Reggina è quella giusta. Anche Fabio Caserta aveva bisogno di fare degli esperimenti per poi, insomma, trovare quella quadra giusta. L'hai trovata? Perché, insomma, due identiche formazioni a distanza di pochi giorni. Sì, la squadra ha fatto delle prestazioni buone anche a Pisa. Al di là degli interpreti, secondo me, in questo momento il sistema di gioco adatta a questa squadra è questo dove abbiamo degli interpreti che possono giocare con diversi sistemi di gioco. Però in questo momento, secondo me, quello che mi dà più affidabilità non solo risultati finali, ma di prestazione perché vedo i ragazzi anche stare meglio in campo e quindi le prime partite normali che provo per cercare di mettere, come sento dire spesso, l'abito giusto a questa squadra. Secondo me, in questo momento è questo. Non significa continuare o finire sempre con questo sistema di gioco perché ci saranno partite diverse dove bisognerà cambiare. Però al di là, continuo a dire, del sistema di gioco e dell'interpretazione che uno dà, è la voglia, la determinazione che questa squadra, soprattutto nelle ultime partite, soprattutto nel momento più difficile dell'anno per quanto riguarda soprattutto i risultati, ha dato dimostrazione di carattere, di forza, di volontà. Anche oggi non siamo partiti benissimo perché credo che nei primi minuti la difficoltà era di trovare il ritmo gara, una partita ravvicinata quindi ci siamo allenati anche pochissimo questa settimana. Abbiamo provato poco o niente però dopo piano piano la squadra è venuta fuori. Abbiamo fatto delle cose ottime, cose che non mi sono piaciute come nel resto anche ai ragazzi perché poi ti complichi la vita sul 2-0 devi essere bravo a saper gestire la palla e non far rientrare mai in gioco gli avversari cosa che purtroppo questa partita abbiamo fatto. Però c'è tanto da lavorare, c'è tanto da migliorare. Noi dobbiamo andare giorno dopo giorno e cercare di fare questo.